Meno male che mi hanno fatto la foto davanti, che se me la facevano di profilo dovevo rompere una parete, se no non ci stavo. La mia passione per la Juventus è nata quando ero piccolo, molto piccolo e mi ricordo mio zio e mio padre andavano a vedere Sivori, Charles, Boniperti. Mi ricordo in televisione vedevo Sivori che faceva i pallecci, faceva tutti quei numerini, i dribbling, prendeva in giro gli avversari, ogni tanto prendeva pure delle randellate perché insomma quando uno fa quei colpi un po' così zingareschi come quelli che faceva lui poi rischia anche le caviglie. Credo che più di una volta gli abbiano fatto dei danni. La Juve poi è diventata subito una fede, una passione, un amore, forse il mio primo vero amore, il primo batticuore forte che ho avuto nella mia vita è stato proprio per le casacche bianconere e ancora oggi il primo amore non si scorda mai. Continuo ad adorare e ad amare questa squadra meravigliosa Forza Juve.